No, 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 no. Non ho proposto fare un... volevo fare un cammello in un eserco! Poi un eserco non era, perché insomma sono stati vari spunti creativi, ma parlare di me non... Non so cosa cosa hai montato. Io non ho visto niente, non lo so, non è andato quasi tutta! No dai, non so cosa dire, è stato divertente... Sei stato un'amante perfetta! Questo sì, però non volevo svelare. Mi ho messo in desabini e mi ho scogliato letteralmente i miei pregiudizi perché potrei fare uno scherz per fare un'opera da due soldi, quella l'ho già fatta, diciamo da tre, un'aspettando godò, io e tanto ti aspetto. E questo è quanto, non è molto però.